I epocassino, forno! Daio! Daio! Daio, ragazzi! Daio! Daio! Scala mobile! Scala mobile! Daio! Oh, devi tornare o no? Anche il capocombolo! Devi tornare! Scala mobile! Devi tornare! Scala mobile! Dai, ma, devi tornare! Ah, bene, non c'è la passica! E' che vince poi, è un po' più lungo! Oh! Oh, oi, 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 oi! Ehi, oi, 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 oi! Oh, hai, oi! Non ti amo, chiedere! Non, non, non! Non ti amo! Non ti amo! Dai! Da' mei, a buocassino! Non è possibile che il giorno a incontrare, il giorno dopo, il giorno a incontrare, non è possibile che un... Il giorno dopo, 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 il giorno dopo.